Ale! Andiamo avanti con la gara! Come anche io voglio ballare e cantare con voi! Facciamo la dance challenge! Ma se lo dice così, anche io voglio cantare! Tutti insieme! Cioè te lo sei creato da solo il gioco, vale? No! No, così, perché ha già deciso! No! Questa è la dance challenge! Yeah! Venite, venite! Ti dico io chi sfiderai in questa dance challenge! Lo dici tu, ok! Sfiderai Jessica e sfiderai Gabriele! Oh! Ora vi spiego perché! Mettetevi da questa parte! Alzatevi giù! Non lo sapevate? L'avete scoperto adesso ragazzi! Perché voi vi batterete per i millennial! Sì! E Valeria invece ballerà per i boomer! La dance challenge è molto semplice! Adesso io vi manderò delle musiche di pezzi famosi! Di balli famosi soprattutto! Che voi non sapete! E dovrete ballarli e interpretarli! Ovviamente il pubblico qui giudicherà! Perché loro due lei? Perché loro due lei da sola? Perché lei è talmente forte! Perché Valeria mi fa due! Allora tu sei con me! Ho una di loro! Una di loro! Allora Valeria dovete sapere che è venuta qui proprio con questo scopo! Lei doveva ballare! Quindi diciamo che è abbastanza ferrata no? In questa materia! Posso dire che ballare con Valeria Marini è una delle otto cose che volevo fare prima di morire! Prima di morire! È bellissimo! È bellissimo! Quando io lancio la canzone comincerete a ballare! Ovviamente comincio da te dai boomer Valeria! Va bene? Eh ho capito! Ma io da sola! Perché? Dai che è facile! Pubblico qui in studio! Mi raccomando guardate bene chi è più bravo a ballare! Questa è una dance challenge! Avete capito? Interpretare i passi! Sì! Benissimo! Alza! E alla fine voterete! Pronti? Comincia Valeria! Primo pezzo! Gris! Gris! Brava! Vai Valeria! La danza del ventre! Brava! Brava! La... È la verse dance! Bravo! Non è la Rai! Non è la Rai! Non è la Rai! Non è la Rai! La canzone del Capitano Andiamo a comandare Andiamo a comandare Super! We're the Dolphins! We're the Dolphins! We're the Dolphins! We'll be near But that's the thing I do We're the Dolphins! 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 Prendici! Prendici! Scusate! Io devo chiedere perché è la mia passione Io quando ho letto Dolphins Io vado fuori testa Perché appena io penso al passo del Dolphins Che io non so fare Penso a Valeria Perché come fa il Dolphins? Ma tu che lo sai fare? Come lo so fare? Dai! Fammi sto Dolphins! Guardate che movimento di Dolph Perché guardate Valeria Vai in giro così Per gli studi Lei si aggira Per gli studi così Vanno ascoltanti Suonando come Mela T'amo cratata T'ammacchina, bussomella Danno le pata E' come un ritmo se le pela E tu hai amè L'udio, dimmi si leggera Vamo passando però devo dire ragazzi adesso dopo questo dolphin che mi ha fatto perdere il fiato è il momento di votare caro pubblico chi ha votato meglio? votate! Valeria! 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 il dolphin fallo a tempo benissimo! chi ha vinto? Boomerissimo! chi ha vinto? vediamo tutti insieme guarda 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 se ci avete i dolli sexy dance grazie 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 a tutti